Allora, abbiamo in serba per Vinicio Caposella la tessera numero 1 dell'NPA Nucleo Pintone Attivo. Lo aspettiamo con ansia, non so cosa si perde se non viene. Ti aspettiamo per il 22, 23 e 24 luglio alla festa dell'alta felicità. Penhouse vs. Grazie a tutti per aver guardato il video.